buongiorno cuori approfitto sempre del raggio di sole per girare questo video pre natalizio con le prime creazioni qua possiamo vedere gli orecchini più simpatici e carini semplici ma di grande effetto poi abbiamo le spille dei bracciali stile pandora eccoli qua gli orecchini con la lavorazione wire con l'alberello queste palle fatte di perle pendenti per l'albero questo pendente da collana e adesso inizio a farvi vedere tutto uno per uno sperando di non bloccare tutto come ho fatto poco fa che ho dovuto cancellare il video allora qua abbiamo la calza con il pacco regalo e il dolce il bastoncino in dolce carinissima il pupazzo di neve che carino che poi troviamo sia in questa spilla inglobato in questa in questa goccia di resina vediamo se riesco a metterla fuoco con tutti i brillantini e stelline sia in quest'altra spilla procedendo abbiamo le campane di natale eccole qui la stellina il fiocco di neve guardate che carino il dolcetto vediamo se riesco eccolo qua messo fuoco aspettate che sposto tutto per poi far posto ai bracciali l'angioletto guardate luminoso e carinissimo ne farò anche di altri colori e anche più grandi in modo che si potranno mettere come pendente l'alberello di natale guardate che bello eccolo qua eccolo qua con gli strass molto luminoso e con l'alberello fatto anche questa goccia molto grande che anche qua è una spilla carinissima da usare su delle sciarpe su dei foulard o anche per chiudere una mantella ecco giusto per stare in tema natalizio simpaticissima poi abbiamo questo cappello da babbo natale luminosissimo vediamo se riesco a farvelo vedere guardate con una perla pavè e con tutti gli strass questa stella anche questa molto molto carina anche questa brillantinosa e luminosa il gattino guardate il gattino che carino con una perla pavè gli occhi sono dei piccoli strass e ha anche il fiocchettino strassoso eccolo qua eccolo qua la ghirlanda di natale e per finire questi simpaticissimi simissimi pantaloncine bermudina guardate che carini che carini che sono adesso passiamo ai bracciali allora abbiamo questo che come vedete all'albero al cappello di babbo natale la donnina le perle pavè il gufetto il dolcetto guardate qua il pupazzo di neve guardate la borsettina che carina e ancora un pupazzo di neve in questo abbiamo la calza la ghirlanda sempre il cappello di babbo natale questo bellissimo alberello guardate che bello guardate con la stella tutti gli strassettini e poi il pupazzo di neve le perle pavè perle in vetro e queste sono in resina termina tutto sempre con un cristallo e la mia manina del fatto a mano questo per finire i guantini da neve delcissimi l'alberello e qui sempre quest'albero stupendo guardate che bello guardate un fiore qua ho messo le zampettine le zampettine del mio gattino o di un cagnolino insomma come vi piace pensare a voi sempre perle pavè qui abbiamo sempre il pupazzo di neve e le zampettine carinissime le spille che vi ho già mostrato e adesso passiamo a questo pendente questo pendente è molto particolare e molto bello è lavorato con un materiale che si lavora col calore e si modella con inglobata questa filigrana questo strass centrale questi strass nel cappello il retro è per farvi capire che è proprio è proprio una lavorazione molto molto particolare e per finire questi bellissimi alberelli questi orecchini con questi alberelli a lavorazione wire di filo in alluminio guardate che carini rosso giallo dorato insomma no non è giallo è dorato e verde proprio come l'albero con la pallina che pende in perla pavè e poi per finire proprio finire e finire queste perle questa lavorazione di perle che si può appendere all'albero o in qualsiasi punto della casa che si voglia o se proprio si possono fare anche dei pendenti di una collana eccole qua adesso vi saluto scusate ho fatto un video un po' lungo perché le cosettine erano tante ciao ciao a presto mi raccomando seguitemi sulla mia pagina facebook i colori della fantasia bijou e se vi piacciono i miei video cliccate mi piace e seguitemi iscrivetevi e insomma non lasciatemi mai da sola ciao 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 ciao